C'è aroma nei succhi e freschezza e varietà di colori. L'odore, che è sempre piacevole, cambia poco a poco secondo la natura delle merci. Non esistono nomi, né insegne e neppure vetrine. Tutto ciò che si vende è in esposizione. Non si sa mai quanto costeranno gli oggetti, né essi hanno infilzato i cartellini dei prezzi, né i prezzi sono fissi. Mi è venuta voglia di andare a fare shopping. Marrakesh, arrivo! So we are astray, there's nothing else to do. In another place, I see a different view. Cause we, we loved and lost again. Attore di teatro, cinema e tv, Alessio Boni ha più volte percorso le vie dell'Africa, sia come ambasciatore dell'Unicef, sia come viaggiatore. In Marocco è stato per un viaggio in moto con dieci amici. Destinazione finale, Marrakesh. Siamo pronti! Perchè hai deciso di raccontarci proprio la città di Marrakesh? Sei partito così! Ah, io sono partito così! Dai, io sto parlando con me, con il direttore della fotografia e tu zampete! Allora, parte tutto dalla piazza. La famosa piazza l'ho segnata perchè è difficilissima da dire Diem en la... Cioè, di tutto, dai incantatori di serpenti, giocoglieri, cibo, puoi comprare delle sedie, che ne so, dall'artigianato locale, hai gli specchi, hai i tappeti... Anche un pollo, se vuoi! Un pollo, tutto quanto! E la cosa che rimane è l'odore, fortissimo, quelle casbe piccole, minute, ti portano in un'altra cultura, assolutamente immediatamente. Ma lì sei già da un'altra parte, anche se il Nord Africa comunque appartiene a un'altra cultura. Tu puoi leggere tutti i libri che vuoi su Marrakesh e della casbe di Marrakesh e della sua Babele, diciamo. Ma se non ci vai almeno una volta e non senti l'odore, non senti quei suoni, non senti quella lingua, ti appartiene molto poco. Vincerezza! Vincerezza! Se come noi vi considerate più viaggiatori che turisti, la Medina di Marrakesh è l'occasione giusta per dimostrarlo. Non limitatevi alla visita dei monumenti e dei mercati, spingetevi oltre la Medersa di Ben Youssef, normalmente considerato un punto d'arrivo, perché è proprio qui che invece inizia un percorso autentico alla scoperta della gente e della sua cultura. Ad accompagnarci è Karim El Ashak, uno dei più famosi architetti urbanisti di tutto il Reame. Stiamo in un quartiere della Medina, veramente riqualificato, seguendo un po' i tempi e le richieste di andare un po' a fondo della conoscenza di questa cultura e di questo paese. Andiamo a visitare questo museo, che secondo me è uno spazio molto interessante, che tramite l'immagine ci fa fare un salto nel passato. Ecco, siamo arrivati nella Maison de la Photographie, uno spazio molto interessante, perché è il frutto di 15 anni di archiviazione di immagini, uno spazio che riflette veramente e ci permette di andare un po' alla scoperta di quello che incontriamo nel quotidiano come persone nella Medina. La nostra seconda tappa andiamo a visitare Darb L'Elj, una fondazione culturale aperta gratuitamente durante tutta la settimana. Darb L'Elj è la casa delle cicogne. La storia parla di un ospedale per le cicogne, un punto di cura per gli uccelli e in particolare per le cicogne. La sobrietà di questo spazio, di questa architettura, permette nelle diverse sale di sviluppare, di presentare esposizioni, anche dal punto di vista, diciamo, delle ricerche, la musica, l'immagine. Questo posto si chiama Dar Sharifah, uno, diciamo, una delle case più antiche di Marrakesh, Essenzialmente è un caffè letterario, però la cosa bella è che ha ridato una nuova vita a questo spazio. È stata una ristrutturazione attenta, importante, però nella programmazione è molto bello il fatto che sia anche un luogo di incontri, luogo molto dinamico attorno a tematiche molto interessanti di cultura nostra e anche rispetto all'altra parte del Mediterraneo. Cosa ti ha colpito maggiormente? Cioè, al di là di questo perdersi, se ti dovesse... Francesca. Cioè, nel senso che là c'è ancora il lusso di potersi perdere il tempo a bere veramente il tè caldo, in un angolo, e parlare delle capre che devono essere tosate nella prossima stagione, e della figlia che deve farsi il telo da sposa per matrimonio. Cioè, il tempo. Ti sei viziato? No, no, è troppo breve. Cioè, non sei andato a farti neanche una mamma? No, mamma sì, sì, due volte, no, ma è troppo breve, non è che ti vizia, il bello di... E torni a casa. Eh, certo. Il libro di... C'è un bellissimo libro che si intitola Il piacere ozioso di un ozioso. Devi comprendere, non è facile... No, è vero. Ok, però, delle piccole coccole, cioè loro sono un popolo che mi stamano, per rendersi cura del cocco, esatto. Ah, mi abbagno i cosi, buttavano addosso l'acqua calda e cominciavano, ti tirano... Quel sapone nero, eh. Quel sapone brava. Ma non siamo abituati, ci vuole un po' di tempo. Io sono piegato, sì, il secondo, ma dopo parecchio c'è... E infatti non c'è più il tempo di potersi curare, ma non nel fatto estetico, perché lì c'è una filosofia molto arte che parte dall'anima e arriva all'estetismo, e arriva al corpo. Noi ci fermiamo al corpo la maggior parte delle volte. Suoni, colori, odori, suggestioni, tutti ottimi motivi per visitare il Marrakesh. Ma se non ci siete abituati, è molto probabile che ogni tanto sentirete il desiderio di isolarvi. Niente di più facile. A pochi chilometri dalla Medina, infatti, esistono vere e proprie oasi di pace, luoghi perfetti per un'evasione giornaliera, così come ci racconta Marco. Siamo a 30 chilometri da Marrakesh, all'inizio della valle dell'Urica, ai piedi dell'Atlante. Questo luogo si chiama Nectarom, è un giardino bioaromatico dove vengono coltivate piante officinali per la realizzazione di cosmetici e oli essenziali. Sono vari motivi che possono spingere un visitatore a recarsi in questo posto. Il primo direi che è sicuramente una bella passeggiata fuori città in uno splendido giardino. Il secondo è quello di poter comprare dei prodotti naturali. E il terzo, forse il più piacevole ancora, è quello di potersi far massaggiare i piedi attraverso dei trattamenti speciali con oli essenziali. Ci sono vari modi per staccare e per uscire dal caos della Medina. Uno di questi è una classe di yoga in campagna. Qui siamo appunto a pochi chilometri dalla Marrakesh, in un'oasi di pace. Si chiama Jnanalia. Ok, respiriamo, respiriamo tra i due nostri, insperate, insperate per 3 a 4 secondi. Se proprio non volete muovervi dalla Medina, chiudete la giornata con un rito speciale. Un bel amman tradizionale marocchino può essere la soluzione migliore per chiudere questa giornata. Per chi vuole vivere la tradizione della mamma, senza entrare in una realtà esageratamente popolare, Le Bende Marrakesh è sicuramente un luogo interessantissimo. Si tratta di 2.000 metri quadrati, una spa, direi, di standard decisamente internazionali. C'è un incontro interessante? Una persona, un volto che ti è rimasto impresso di Marrakesh? Un volto di un bambino. Aveva 9 anni e lavorava in una miniera di sassi. Spaccava i sassi, le cose, e aveva una forza, uno sguardo. Quella mi ha colpito molto, cioè proprio perché porta a casa i soldi e mantiene la famiglia a 9 anni. La nostra trasmissione si chiama Effetti personali, un po' per pensare a quello che tu porti con te quando viaggi, ma anche per indagare se compri qualche cosa, se ti porti a casa qualche cosa dai viaggi. Sempre qualcosa, ma anche una stupidaggine che ricordi qualcosa. Dal Marocco mi sono portato degli specchi, una piccola seggiolina artigianale, molto piccola, di legno, con intrecciato proprio di vimini e poi dei tappeti, due tappeti. Appena messo piede nella Medina, sarete sopraffatti dalla quantità di artigianato esposto nei souk. Ovunque vedrete mani al lavoro, intenti a cesellare, scolpire e intrecciare. Ottimo se siete in cerca di oggetti caratteristici. Troppo se lo stile etnico non fa proprio per voi. In ogni caso, non perdetevi d'animo. La preziosa manualità marocchina ha incontrato un design più evoluto, dando vita ad una produzione preziosa e raffinata. Il posto giusto in cui cercarla è lontano dal centro, come ci racconta Clara. Benvenuti a Sidi Vanem. Questo è il quartiere industriale di Marrakesh. Si trova a una ventina di minuti dal centro. I turisti non lo praticano molto perché è un po' distante, però vi consiglio di venire a visitarlo, in quanto si trovano tutti i laboratori dell'artigianato marocchino, gli atelier, le esposizioni. Adesso andiamo a visitarne uno. Venite con me. Questo è Akal, un laboratorio di ceramica artigianale, dove si possono, diciamo che è l'eccellenza della ceramica marocchina, con questo unione che c'è tra il vecchio e il nuovo. Come sentite dal rumore, questo è un atelier di ferro e del metallo. Si chiama Le Mettie d'Ieri, il mestiere di ieri. E qui rivisitano un po' tutte le oggettiche che vedete con il ferro, utilizzando anche dei pezzi di recupero. E adesso ci troviamo nel showroom dell'adiescente al laboratorio che abbiamo appena visitato, dove possiamo ammirare e anche acquistare questi oggetti in ferro creati da Messiae Daniel. Per l'ultima tappa ci spostiamo nel quartiere di Gelize, alla scoperta dei capolavori di Monsieur Yaya. Yaya rappresenta sicuramente il numero uno dell'eccellenza dell'artigianato marocchino. La sua specialità è la lavorazione dell'ottone, ma è talmente minuziosa e curata nei particolari, da sembrare del vero e proprio merletto. Questi tipi di viaggi però ti avvicinano di più a un viaggiatore che a un turista. Io non sono turista, non sono mai stato turista, non mi piace. Quindi ovviamente mangi il cibo del posto. Devi, devi, ma che stai scherzando. Anche avendo delle spiacevoli sorprese a volte. Una volta mi hanno fatto mangiare queste cavolo di lumache lì alla piazza, ma no, non ce l'ho fatta. Sono dovuto girare, non ce l'ho fatta ningoiare, erano di una roba quasi cruda, viscita, non le cuociono bene. Però hanno anche quei dolci, zuccherosissimi. Dolci sono il paradiso del fegato. Quelle meravigliose spremute d'arancia. Le spremute d'arancia, unico a secolo bravo. Ah, vado, è stato allora. Sì, anch'io. Tagina, voglio dire, che è col pollo, che è col montone, con una sola di verdura. Però dopo devi fare 12 ore di moto per smaltire, perché sono veramente una roba di un passante. Però di moto di corsa, non di moto... No, ma vera che smaltisce. In moto? Eh, una scherz, non è che è. Quella è... L'enduro, sai che cos'è? Sì. È come un cavallo che guada un fiume, che arriva sul monte... Va domata, tu dici. La devi domare. Come una donna, una gran fatica, su di un sacco di camice. E poi vince sempre lei, la moto. Buongiorno, mi chiamo Olivia, sono italiana, vivo a Marrakesh da ormai quasi otto anni e da quando sono qua ho iniziato a studiare la cucina araba antica. E comunque per avvicinarsi a questo tipo di cucina, credo che la cosa migliore sia quella di partecipare ad un corso di cucina ed è proprio quello che ora andremo a fare. I migliori riade della Medina organizzano corsi di cucina per i loro ospiti. In genere l'appuntamento è alle 10. La prima tappa sono i mercati tradizionali per acquistare tutti gli ingredienti necessari. Siamo al mercato di Astem al-Malek. Compreremo la carne, il pollo, le verdure, le spezie, tutto ciò che ci servirà per iniziare il nostro corso di cucina. Il sass è quasi papà. No, no. Uno dei segreti della Medina e della buona cucina marocchina è quella che qui ancora troviamo degli ingredienti fantastici, delle verdure meravigliose. Ore 12. Tutto il necessario è stato acquistato. Ora si procede verso la seconda tappa. Siamo arrivati ora a Riad del Jazeera e dove comincerà il corso di cucina vero e proprio. Il menù di oggi che stiamo preparando è il pollo alle erbe, una tagina di legumi verdi, un insieme di insalate marocchine che sarà l'antre, e poi i brouettes di frutta. Ecco, ora il momento più importante del corso di cucina. Siamo tutti insieme a tavola a goderci il lavoro che abbiamo fatto. Era la prima volta che andavi a Marrakesh? No, no, ci ero già andato. Avevo fatto già un viaggetto per i fatti miei e poi avevo già fatto un ultimo dell'anno che è a Marrakesh, proprio in un riad. Anche io? Con degli amici, abbiamo fatto proprio stappato e abbiamo fatto... In piazza con tutta quella gente. E' un caos terrificante, meraviglioso, siamo persi. Ci siamo trovati qui alle 3-4 del mattino al riad, ma ci siamo completamente persi. Il nostro viaggio non finisce qui. Tra poco torneremo a Marrakesh per conoscerne tutti i segreti insieme ad altri effetti personali di Alessio Boni.